Chiaravalle in vista dei festeggiamenti in onore dei santi medici Cosma e Damiano. Continua il settenario relativo ai festeggiamenti in onore dei santi martiri Cosma e Damiano a Chiaravalle che si terranno il 26 e il 27 settembre. In particolare ieri sera presso la chiesa del santuario Madonna della Pietra, gremita di fedeli, il parroco don Roberto Celia con al suo fianco il diacono Giovanni Laurora ha celebrato la Santa Messa. Durante la celebrazione eucaristica è stata benedetta la statua di San Padre Pio offerta dal gruppo di preghiera, dello stesso gruppo di preghiera. Subito dopo il Tg uno speciale sull'evento. Chiaravalle in vista dei festeggiamenti in onore dei santi martiri Cosma e Damiano a Chiaravalle di San Padre Pio